Buongiorno amici e benvenuti alle terme di Catex. Abbiamo passato qui due giorni nel campeggio annesso alla struttura. Abbiamo iniziato con un po' di relax nelle piscine interne per poi passare alla parte esterna e scatenarci tra nuotate tuffi e scivolate infinite. Grazie a tutti. Sì, ciao! Sì, c'è quello che voleva! Questa è la vita, eh? Ciao amici del canale! Come ti scialdi, Greta? Come ci si sente in questo momento di relax? Questo era un momento di relax? E' un po' più fanno lo scivolo. Eh, lo scivolo! Adesso dobbiamo farlo uno. E' un po' più fanno lo scivolo. Bravo! Eccoci nel fiume! Questa è la vacanza, non devi neanche notare. Non si porta in più. Non ci ci mettiamo... Guarda! Uuuuh, che bianco! È riuscita! Questa è una delle piscine sterne, delle terme di Katezzi. Ora ci siamo appostati vicino all'area Bimbi e poi c'è tutta una grandissima ala di scivoli. Bello, comunque un posto bellissimo. Oggi qualche velatura, ma comunque la temperatura è affosa e quindi perfetta per il parco a bordo. Questo è uno scivolo in cui si fa una gara con gli altri partecipanti, con tanto di punteggio finale. Qui hanno un sistema comodissimo per mandare sui gommoncini e quindi non devi portarti a spalle il canotto, come in altri parchi, ma lo metti su questo binario che lo porta su. Quindi molti meno gommoncini e comunque tante persone. Il sistema pare funzionare abbastanza bene. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.